Ieri abbiamo chiesto io e Brook di entrare nei rei Amatir da Cassius perchè tanto tu già li hai detto in passato Mai dai, mai dai Mai dai Ah, è super bello, ieri abbiamo detto io e Brook Mai dai, mai dai Perchè sapevamo che lo vuole dire che lo stavano, ovviamente non lo facciamo in casa, no? Mai dai, ma mai dai Perchè? Staiper po prave, Sonio Staiper sta, bravo Abbiamo partito, bravo! Dobbiamo proteggerlo! Intensore cinetico trasmette Staiper! 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 Fu avvenito a pistacca! Colle! Ecco un kick dentro! Oh, stanotte ho fatto una partita con Brook, Cassius Io ho fatto 16-2 Brook ha fatto 1-12 Non c'è Non ci credevo quando me l'ha detto, quante ricette mi so fatta Si, 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 si vediamo Si, si, si vediamo Si, 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 si vediamo Si, 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 si vediamo Si, si, si Si, 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 si Si per effettivamente I noro ho fatto il posto nella controaerea ma non va non è riuscito a cambiare è stato dietro oh l'ho preso colancia granata l'ho preso colancia granata l'ho preso colancia granata che coglioni eh qui è volato una vaffa oh l'ho preso scherzo ecco il posto ecco il posto ecco il posto ecco 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 cazzo uomo a terra uomo a terra e ma non so più ma mai oh l'ho preso v tengo perché non mi ha gridato l'uomo a terra 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 ho delle munizioni l'uomo a terra 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 Sì, la scataccia. Sì, la scataccia. Sì, la scataccia. Ma la scataccia. Ma non è che io? Non si, la scataccia. Non si, la scataccia. Non si, la scataccia. Oh, buon lavoro. Oh, buon lavoro. Ok, ok, ok. Va. Quattro RPC, non c'è il fuoco. È preso quel cecchino a passione. Sono in piano il tuo spazio. Pure, vabbè. Qui che ha traccia con l'elicottero di mezzo. Sì, la scataccia. Questa è stata buona. Ora è stata buona. Sono Non so, la scataccia. Sì, il Resourcesen si sta da andare a vivere. Buongiorno. Fuori quella di Mare Raoni Raoni. Ehi, aspetta... Oh, come... Oh, buia, buia... Scusate, ma che un ucciso è un'altra, si parla da qui Scusate, non è l'altra, si parla da qui Scusate, non è l'altra Bisogna far fuori di fronte a un'altra, non ci lascia in faccia Sì! 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 Identificatore piazzato! Squadra RBG troppo fuoco! Sì! 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 F***! Dove il cazzo sta in battle? Sì! 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 Sì!